Ciao, eccoci con un nuovo video. Oggi ho deciso di trattare, cercando di stare abbastanza breve e quindi limitarmi a 5 minuti di video insomma, un tema che secondo me è molto interessante e lo dico semplicemente sulla base della mia esperienza e di come si è evoluta un po' la mia percezione rispetto a questo argomento. Il tema centrale è come i libri, i testi di matematica, quindi testi tecnici sostanzialmente, possano aiutare, contribuire a diciamo alla tua comprensione dei vari argomenti che ti trovi magari ad affrontare o ad un corso universitario di matematica o anche tramite uno studio da autodidatta. Ti spiego brevemente qual è stata un po' la mia esperienza e qual è stato il mio approccio nei confronti dei libri, nel senso che potrebbe secondo me essere interessante, ovvero io adesso penso che i libri possano essere un grande strumento a favore dell'accelerazione della comprensione della matematica e sostanzialmente ora qualunque argomento io mi trovi a studiare lo faccio accostando quelle che sono magari le note di un corso o le note di un seminario con due, tre, quattro libri di testo che o ho a disposizione tramite la biblioteca o se sono testi particolarmente rilevanti ho acquistato oppure che ho scaricato in qualche modo che non vado a dire magari legale, magari un po' meno, online insomma. Ti dico solo che comunque quantomeno qui abbiamo la licenza con i libri Springer quindi gran parte dei testi qui dove lavoro ce li ho a disposizione gratuitamente, altri di scarico in altri modi insomma. Comunque appunto ora sostengo che i libri possono aiutare particolarmente nel capire vari argomenti, dimostrazioni, esempi legati appunto al mondo della matematica non solo a quello dove lavoro adesso quindi sistemi dinamici, analisi numerica ma tutta la matematica. Beh questo non era però il mio parere all'inizio dell'università, infatti i primi due tre anni sostanzialmente dell'università a parte un paio di libri che ho acquistato perché ero in una situazione in cui mi sentivo in difficoltà nell'affrontare l'esame quindi impanicato ho detto compro il libro, Fisica 1 in particolare, Analisi 2, questi due sono i corsi in cui mi sono trovato ad acquistare un libro poi in realtà Fisica 1 non l'ho neanche utilizzato e Analisi 2 invece l'ho letto da inizio alla fine il libro è Pagani Salsa, Bramanti Pagani Salsa, Analisi 2 che in caso ti consiglio comunque. Perché non ho mai acquistato libri ma in realtà neanche consultato libri sostanzialmente nella triennale? Beh semplicemente perché sostenevo che nel momento in cui avevo le note disponibili e gli appunti presi in aula perché ho sempre frequentato le lezioni questo fosse sufficiente. Visti i risultati posso dire che effettivamente possono essere sufficienti però a posteriori mi sento di dire che in realtà sono sufficienti ma i libri potrebbero aiutare. Quindi la mia tesi insomma è che nel momento in cui uno si trova ad affrontare dei corsi universitari di matematica o uno studio autonomo quello che è il ruolo dei libri è di supportare il materiale che uno raccoglie da altre situazioni da altre fonti per esempio a lezione. Infatti in matematica ma in realtà anche in altri altri contesti può succedere che sostanzialmente un concetto ti venga presentato in un modo che per te non è chiaro magari non è il miglior modo con cui tu potresti capire quell'argomento. Quindi probabilmente se ci dedichi abbastanza tempo riuscirei a capirlo e è il modo con cui ho lavorato sostanzialmente in triennale. Però se tu hai varie prospettive sullo stesso argomento e quindi sostanzialmente varie fonti in cui questo argomento è proposto ovvero alcuni libri che lo propongono oltre alle note e gli appunti presi in classe probabilmente quello che succederà è che riuscirai a capire più in fretta quell'argomento e magari anche in maniera più chiara perché magari non arriverai a convincerti che una cosa sia vera e a forza di rivederla quindi a convincerti di averla capita ma quello che potrebbe succedere è che vedendo più fonti più prospettive più modi di spiegare lo stesso concetto magari finalmente troverai quel modo che ti farà arrivare a quel click quella situazione in cui realizzerai ok ho capito veramente e quindi magari sei anche in grado di spiegarlo effettivamente a un tuo compagno di corso o ad alta voce insomma quindi sei certo di aver capito quella cosa e magari anche applicarla ad esercizi perché è sempre quella solitamente la il sempre quello il test finale da fare ovvero se io so utilizzare un concetto vuol dire che effettivamente l'ho capito quindi sostanzialmente poi ho cambiato questo approccio questo pensiero nel lotto nei confronti dei libri di testo in magistrale dove ho iniziato appunto a vederli come degli strumenti a che mi aiutassero nello studio come sto facendo adesso e quindi da lì ho iniziato a consultarli di più però siccome appunto per esperienza personale non è stata una cosa scontata fin da subito vuoi perché vuoi risparmiare giustamente nel senso che meno meno soldi spendi in risorse più sei contento vuoi perché dici comunque ho tre quattro quaderni presi in classe o due quaderni un pdf da 100 pagine fornito dal prof comunque questo è già abbastanza materiale da studiare verissimo però il problema è che magari alcune cose ti vengono più difficili capire ti viene più difficile capirle da quelle fonti lì piuttosto che magari da altre alternative quindi secondo me può essere un aiuto quello di quando inizio un corso quando inizio un seminario che ti interessa capire bene trovare anche delle risorse esterne a quelle che potrebbero essere le note o gli appunti forniti da professore forniti da professore chiaramente però è importante avere una risorsa primaria ovvero sostanzialmente gran parte del corso del programma andrei a studiarlo da quella risorsa e le altre saranno da supporto quindi nel momento in cui avrai bisogno di una prospettiva alternativa ti appoggerai al resto quello che consiglio se segui un corso universitario è chiaramente tenere come risorsa primaria quella che può essere la dispensa fornita dal prof o i tuoi appunti queste possono essere viste un po' come entrambe la stessa risorsa sostanzialmente entrambe di riferimento e poi qualora ti trovassi in una situazione in cui un argomento un concetto non ti è così chiaro una dimostrazione non ti è chiara allora avrai una selezione di altri libri 2 3 1 qualsiasi insomma sia il numero va bene che hai trovato all'inizio corso hai visto online che sono testi validi insomma hai visto che alcuni argomenti ti vengono proposti in qualche modo che per te è comprensibile e quindi andrai a sfogliare quei libri usarli come referenze e supportare quindi la tua risorsa primaria che sono dispense e appunti quindi niente questo voleva semplicemente essere un video consiglio insomma basato sulla mia esperienza per qualcuno può risultare scontato che i libri aiutino per altri come a me di qualche anno fa non lo è insomma quindi ho deciso appunto di condividere questa cosa con te e con voi spero appunto che questo consiglio questa breve condivisione possa esserti utile fammelo magari sapere con un commento o magari fammi sapere in un commento cosa ne pensi tu del supportare lo studio il materiale didattico fornito in università o raccolto in università con testi alternativi e anche come fai a selezionare questi testi alternativi perché è sempre un po' un terno all'otto come faccio a capire qual è il libro migliore di quel corso beh se vuoi qualche suggerimento comunque puoi andare sul sito e troverai una lista dei testi che ho avuto modo di utilizzare studiare e o usare come referenza insomma e mi trovo appunto tranquillamente a condividerli e suggerirli appunto perché mi sono trovato bene con quelli quindi basta che vai su matuan.it e libri di testo dovresti trovare esattamente la lista dei libri che suggerisco che cercherò nei prossimi giorni e settimane di aggiornare perché ho alcune cose da integrare alcuni libri con cui mi sono trovato bene dopo il momento in cui ho scritto quell'articolo quindi con ciò ti saluto ti ringrazio per la visione e noi ci vediamo alla prossima ciao